Tempi duri e difficili si profilano all'orizzonte per i dirigenti comunali. Il sindaco di Agrigento, Carlo Gerofiretto, ha fatto pervenire loro una nota con cui stabilisce che i famosi e ricchi premi di risultato saranno corrisposti a coloro che saranno in grado di intercettare, attraverso appositi progetti, i fondi messi a disposizione della comunità europea. Al comune di Agrigento sembra quindi definitivamente tramontato il tempo in cui i dirigenti comunali percepivano a pioggia le ricche prebende che amministratori ciechi e interessati conferivano a mani basse. Adesso, con la linea decisa da Firetto, il comune di Agrigento potrà contribuire a far risalire la Sicilia dai bassi fondi alla classifica delle regioni con il più basso utilizzo di fondi comunitari. Finalmente ad Agrigento, almeno al comune, si volta pagina. I dirigenti saranno ora costretti a spremersi le meningi e farsi venire qualche idea per come riuscire a guadagnare il tanto sospirato premio di risultato che si aggira ogni anno in migliaia di euro. Con questa clamorosa, ma a dir poco intelligente, iniziativa del sindaco Firetto si potrà dare una spinta ai futuri investimenti e allontanare l'aggregento tra quelle città che occupano i primi posti nelle aree europee svantaggiate. Visto oramai che quelle dell'Europa sono gli unici soldi di cui si può disporre faranno bene i dirigenti a darsi da fare per realizzare un utilizzo responsabile della gestione dei fondi strutturali. I dirigenti, oltre a guadagnarsi la meritata indennità, potranno dimostrare il loro valore professionale per smentire a coloro che insinuano che in Sicilia le loro capacità progettuali sono completamente scarse. Il sindaco Firetto però stia in allerta in quanto l'Europa pretende che ci sia connessione tra programmazione e gestione del progetto. Ci può essere il pericolo che il progetto approvato e finanziato non abbia un'adeguata gestione con il concreto rischio di essere costretti a restituire i fondi a Bruxelles.